Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica A domanda risponde. Oggi l'argomento del giorno è le emissioni in ruolo 2021-2022. Si sta avvicinando il momento delle emissioni in ruolo e dunque riteniamo opportuno dare risposte ai nostri telespettatori alle loro richieste. Veniamo alla prima domanda. Sono nelle gradatorie di esaurimento a scuola primaria e non ho la specializzazione lingua inglese. Concorrerò solo per i posti comuni? No, parteciperai anche per i posti di lingua. Le emissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo alla gradatoria generale, anche se riferite ai posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all'atto della individuazione, i docenti messi in ruolo dalle gradatorie di esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare un'apposta dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, cioè che non si ha questa specializzazione, al candidato viene notificato l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento proprio della lingua inglese. Questo deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'anno scolastico 2021-2022. Passiamo alla seconda domanda. Nella mia regione, per la mia classe di concorso, sono esaurite le gradatorie dei concorsi 2016 e 2018 e anche le GAE sono esaurite. Ci sono aspiranti solo nel concorso straordinario 2020 e dalle GPS. Come funzionano le percentuali per il ruolo? Stando così le cose, il 100% dei posti disponibili per il ruolo andranno distribuiti al 50% al concorso straordinario 2020 e l'altro 50% allo STEM, nel caso si tratti di una disciplina STEM, altrimenti al 100% allo straordinario 2020. Gli eventuali posti residuati per l'esaurimento del concorso straordinario potranno essere assegnati alle GPS. Terza domanda. Il docente ne è assunto a partire dall'1 settembre 2021. Potrà mettersi in aspettativa e rimandare l'anno di prova? Questa è una domanda molto richiesta perché ci sono candidati per regioni che sono residenti in altre regioni e dunque hanno una problematica di carattere familiare evidente. Rispondiamo a questa richiesta. Il docente che non è in grado di svolgere il periodo di prova o di formazione per motivazioni in quali la maternità, l'aspettativa per motivi familiari o di studio, il congedo, la malattia o qualsiasi altro motivo giustificabile, può rinviare agli anni successivi l'anno di prova senza limiti temporali. Speriamo che queste risposte abbiano aiutato i nostri telespettatori a orientarsi ancora meglio. Seguiteci ancora nei nostri canali social Facebook, YouTube e nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it perché in questi giorni tratteremo in maniera particolare proprio il tema delle emissioni in ruolo. Arrivederci e alla prossima puntata. Grazie a tutti.